Continua la sfida tra i nuovi aspiranti campioni e i campioni storici di Sarabanda. Martedì 20 giugno, torna su Italia 1 in prima serata il secondo appuntamento con il quiz musicale condotto da Enrico Papi. In questa puntata rivedremo Valentina Locchi, Diego Canciani Tiramisu, Raffaele Caso Testina e Marsiglio Vegni, ritrovato dopo un appello. Il gioco musicale, cuore del programma, sarà arricchito da ospiti del calibro di Elodie, Lele, di Ilunga Anira Meoretta Berti intervallati da momenti di spettacolo con l'orchestra Saraband, i di Ilunga Marniche e i balletti del corpo di ballo. Alla fine della puntata verrà decretato il nuovo campione, che raggiungerà Luca Diomedi nella finalissima di martedì prossimo per l'elezione del super campione.